La scienza dell'epigenetica è usata per ottimizzare il benessere. Avete mai sentito parlare della scienza dei sistemi viventi? Tutti i sistemi viventi sono rinvigoriti dall'acqua e dai nutrimenti. Ma è il sistema stesso ad essere formato da materia che compone le strutture fisiche, la più piccola delle quali è l'atomo. Gli scienziati che hanno ricercato da cosa sono creati gli atomi hanno capito che sono plasmati da particelle più piccole di quelle subatomiche energia vibrazionale e spazio. Lo spazio, infatti, non è vuoto. Lo spazio è composto da legami interattivi di energia che collegano l'universo e permettono uno scambio di informazioni energetiche. Gli scienziati hanno scoperto che l'energia esiste anche nei fotoni, che a loro volta contengono frequenze ricche di informazioni e vibrazioni all'interno di un campo risonante. Ciò significa che anche la luce è prodotta da particelle fisiche ed energia vibrazionale racchiuse all'interno di un campo contenuto. Il flusso di informazioni dentro questo campo è la comunicazione, che influisce su tutte le energie vibrazionali viventi e, di conseguenza, agisce sull'intera materia attraverso le risonanze, generando così un effetto sulle particelle fisiche che costituiscono le cellule e, a loro volta, i sistemi viventi. Infatti, l'energia condiziona la materia con un'efficienza cento volte maggiore rispetto a quanto la materia non influenzi un'altra materia. Ciò significa che possiamo ottimizzare lo stato fisico del corpo umano dominando l'energia vibrazionale delle cellule, l'energia naturale del cibo e dell'acqua. L'espressione genetica incide sulla fisiologia quotidiana. Tale processo dipende dall'energia vibrazionale attraverso la decodifica del nutrimento, dell'acqua, dei segnali ambientali, sia benigni sia maligni. Questi orientamenti ambientali permettono alle cellule di comunicare tra loro e con tutto il sistema vivente da cui provengono. Gli scienziati collegano questo fenomeno all'epigenetica. Le fondamenta principali dell'epigenetica ci hanno fornito una visione d'insieme che ha consentito a Cell Wellbeing di sviluppare una tecnologia per ottimizzare i sistemi viventi. Questo nuovo approccio al benessere è completamente sano, naturale ed efficiente e si basa sull'epigenetica, così come sulla meccanica quantistica. Scopri il tuo personale trattamento epigenetico oggi. Richiedi il report di immunità e benessere e scegli il tuo personale resoconto sportivo d'élite. Cell Wellbeing per il progresso del genere umano.